Benvenuti da Andanovi Ciarici, oggi vi devo dire una cosa importantissima sul mio canale e nei miei commenti che mi hanno fatto i miei iscritti Mi hanno scritto nei miei commenti, nel precedente video mi hanno scritto che devo cambiare video, non devo fare più sempre parlare di calcio mercato o di inter ma fare anche qualcos'altro Quindi io faccio anche qualcos'altro così forse mi arrivano i 150 iscritti ma se non arrivano devo chiudere il canale ma i 1500 iscritti sarà dura che arrivano nel mio canale Spero che arrivano i 1500 iscritti anche, io spero che arrivano i 1500 iscritti però sarà dura, sarà dura è un obiettivo che devo fare È un obiettivo che ho deciso di fare mi sembra l'anno scorso, questo obiettivo e io sto aspettando i 150 iscritti che fra due settimane se non arrivano i 150 iscritti chiudo il canale Quindi aspetto i 150 iscritti e per i 1500 iscritti sarà dura ma spero di arrivarci Spero che condividete questo video, spammate questo video e lasciatemi il dislike se io abbiamo i 50 like Non so che dire, non so che dire, non comment, si oriamo i 50 like, lasciatemi il dislike e si oriamo questo videone Spammate questo video, condividete questo video nei vostri gruppi così i 150 iscritti arrivano subito Spammate questo video e condividete questo video e i 1500 iscritti sarà dura arrivarci ma ci proverò Quindi spammate questo video, lasciatemi il dislike se io abbiamo i 50 like Devo cambiare un po' il video che faccio e alla prossima da Andanovi, ciao e ricci